126 alberi da abbattere per la pista ciclorotellistica, braccio di ferre fra comuni ambientalisti. Sale il termometro dell'AFA, parte la campagna di prevenzione ai colpi di calore. Didattica innovativa, la regione investe sull'intelligenza artificiale da applicare a scuola. Tempo di dichiarazione dei redditi, sempre più pesaresi si rivolgono ai CAF. Utopia, festa per i primi sei mesi al Miralfiore con nuovi progetti in arrivo. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale del Canale 80 che in questa edizione di martedì 9 luglio apriamo su Pesero e su un caso ambientale che sta facendo discutere trasferendosi anche sul piano politico. Parliamo dell'abbattimento di 126 alberi, oltre metà dei quali protetti, che saranno appunto divelti per far costruire il progetto di impiantistica sportiva della nuova pista ciclorotellistica in zona Torraccia. Ne parliamo nel nostro primo servizio. Un caso di tutela ambientale che sta diventando un caso politico. Le associazioni ambientaliste di Pesero non ci stanno ad assistere a quello che definiscono un altro scempio ambientale, ovvero quello dei 126 alberi destinati ad essere abbattuti per realizzare il nuovo impianto sportivo della pista ciclorotellistica che sorgerà in zona Torraccia. 126 alberi, 72 dei quali risultano specie tutelate, ovvero una cifra completamente diversa da quella modesta ventilata in approvazione di progetto. Attraverso un comunicato ufficiale, le associazioni Gruppo Zero, la Lupus in Fabula, CAI, LIPU, ONA, EMPA, SECU, Hauser, Grig e Zero Waste diffidano il comune da proseguire con un progetto che si smarca dalla sostenibilità ambientale professata dall'amministrazione, associazioni che puntano a verificare l'iter autorizzativo e non escludono di presentare ricorso al TAR o segnalare il caso agli organi competenti per l'erogazione di fondi PNRR. L'amministrazione comunale dal canto suo difende la bontà del progetto. Gli assessori Pozzi e della Dora, attraverso un comunicato, hanno ricordato oggi come la pista sorgerà in una zona molto ampia di 105.000 m2, ovvero come 16 campi da calcio. Fino a pochi mesi fa quella stessa area non era fruibile, era completamente abbandonata, ma grazie all'avvio dei lavori verrà riqualificata. L'abbattimento degli alberi, ricordano gli assessori, sarà limitato alla realizzazione della pista e quindi una pianta ogni mille metri quadrati con una densità bassissima. Una vegetazione che ricordano i due assessori è spontanea, selvatica e nata dall'abbandono dell'area negli ultimi dieci anni. Assessori che ricordano anche come sarà condiviso con la consulta il progetto di ripiantumazione e in fase di esecuzione sarà posta attenzione nel cercare di ridurre gli abbattimenti. Per l'assessore alla sostenibilità Maria Rosa Conti invece i temi ambientali sono diventati un aspetto centrale per l'ente locale e non può esserci più una retorica per cui riguardano solo gli ambientalisti. La Conti invoca una governance seri ed esperta per sviluppare questi aspetti e tramutarli in progetti come quello di un impianto sportivo finanziato dal Ministero che ha una forte valenza di benefici sociali, sportivi e salutistici. E nelle telegiornali di ieri vi abbiamo dato notizia purtroppo di un altro incidente mortale sulle strade peseresi, in particolare in strada delle regioni all'altezza di Villa Fastici. La vittima dell'incidente di ieri si chiama Samuel Di Gregorio, 46 anni, siciliano di Modica Madanni, residente a Urbino. La sua moto si è scontrata con un autocarro guidato da un 49enne che stava facendo manovra per immettersi nella carreggiata e ha finito per invadere la traiettoria della moto in transito. Si è creata dunque una collisione fatale in cui Di Gregorio è rovinato violentemente a terra riportando gravissime lesioni alla testa. E' iniziata la prima ondata di calore intenso di questa estate. Il bollettino emesso dalla Regione Marche evidenzia come a partire da oggi il Comune di Pesaro si trovi a rischio arancione con un incremento a rischio rosso per la giornata di venerdì. Periodo in cui le temperature potranno raggiungere i 34 gradi ma anche a causa dell'umidità potranno essere percepiti fino a 40 gradi. Una situazione delicata per le condizioni di salute nelle quali si inserisce anche una campagna di prevenzione delle farmacie comunali. Si alzano le temperature, si alzano i rischi legati all'AFA e ai colpi di calore. Un contesto sanitario estivo che le farmacie comunali di Pesaro e Gabicemare gestite da Aspes sono pronte ad affrontare offrendo un servizio di prossimità alla cittadinanza all'insegna di sconti e consigli utili. Un'azione di prevenzione che aderisce alla campagna Proteggiamoci dal Caldo promossa dal Ministero della Salute. Mettere a disposizione dei nostri utenti che sono gli utenti delle farmacie comunali della città di Pesaro e della città di Gabicemare Dei prodotti a marchio farmacie comunali.it a prezzi scontati che possono in qualche modo affievolire l'effetto dei picchi del caldo di calore che purtroppo siamo costretti ad affrontare. E lo facciamo scontando questi prodotti del 20% dando la possibilità anche a tutti gli utenti che in qualche modo si rivolgono alle nostre farmacie sul territorio in cui operiamo di poter utilizzare i prodotti stessi. Noi siamo farmacie comunali e non dimentichiamo mai la finalità con cui tanti anni fa i comuni decisero di fondare le farmacie stesse che sono finalità di tipo sociale e in questa situazione, in questo momento vogliamo proprio venire incontro aderendo alla campagna che il Ministero della Salute ha come tutti gli anni promosso. Al tempo stesso abbiamo anche altri prodotti che riguardano la protezione della pelle quindi di prevenzione che in qualche modo sconteremo ugualmente proprio per dare la possibilità a tutti di avere prodotti di grande qualità a prezzi scontati perseguendo la finalità sociale per cui siamo nati. Non solo agevolazioni su prodotti specifici, le stesse farmacie forniranno anche una serie di consigli utili per affrontare le criticità sanitarie legate al periodo estivo. Il decalogo è il decalogo ministeriale che si chiama proteggiamoci dal caldo con le 10 regole basse e fondamentali, quelle che tutti dovrebbero conoscere e osservare, quindi evitare le ore più calde, coprire il capo, non fare sport durante queste ore, bere almeno un litro e mezzo, due litri d'acqua al giorno, reidratarsi non solo bevendo ma anche utilizzando dei prodotti a base di potassio e magnesio che sono quegli elementi che si perdono con la sudorazione. Noi in base appunto a questa serie di necessità che la popolazione aveva in conto abbiamo realizzato una serie di prodotti a base appunto di sali minerali, ma non solo, sono anche privi di zuccheri, quindi per i diabetici, di glutine, quindi per i celiaci e anche di lattosio perché è intollerante al latte. Inoltre il caldo intenso può provocare anche crampi a livello muscolare e per questo abbiamo fatto il magnesio, il magnesio che è specifico nel rilasciare appunto le fibre muscolari, ci agisce su questo. In più, come dice il decalogo, bisogna stare attenti anche agli animali e ai bambini, non lasciarli in macchina per lungo tempo nelle ore più calde, quindi sono le regole di buon senso, però poi pratiche nel farlo tutti i giorni. Fra i consigli di base, le linee d'azione con cui affrontare i colpi di calore. Il colpo di calore che è frequente, bisogna sicuramente portare questa pressione in una zona d'ombra, probabilmente sollevargli le gambe, far sì che ci sia un certo ritorno venoso, non tirargli un secchio d'acqua fredda addosso, altrimenti si va incontro di una congestione, farlo bere gradatamente e poi dopo se il farmacista in misura della pressione intravede che la pressione è calata o che la pressione non sta bene, chiamare sicuramente il 118, che è in questo caso il servizio medico che interviene prontamente nel portare eventuali cure o soccorre alla persona. Cambiamo argomento e parliamo di istruzione con la Regione Marche che investe 8 milioni e mezzo di euro su progetti di didattica innovativa che contemplano anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Progetti che saranno rivolte ad un'ampia fascia di età dalla quinta elementare fino all'esame di maturità. Nuove tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative nelle scuole per superare le difficoltà d'apprendimento e favorire l'inclusione scolastica. Va in questo senso l'avviso pubblico per progetti di didattica innovativa nelle istituzioni scolastiche presentato questa mattina dall'assessore regionale all'istruzione Chiara Biondi. Un avviso che rientra in un processo strategico di sviluppo del sistema formativo regionale predisposto ad offrire modelli di intervento fondati sulla didattica che adotti metodologie di insegnamento alternative alla classica lezione frontale e capaci di intercettare le modalità preferenziali di apprendimento degli studenti dalla quinta elementare fino all'esame di maturità. In questo quadro rientra anche l'apertura all'intelligenza artificiale da trasferire al mondo della scuola. Un progetto importante sulla didattica innovativa con il quale mettiamo a disposizione 8 milioni e 400 mila euro di risorse della programmazione comunitaria perché vogliamo dare una risposta concreta ai nostri giovani in quanto la didattica innovativa è un nuovo strumento per facilitare l'apprendimento dei nostri ragazzi e anche per migliorare comunque le tecniche di insegnamento. Questo bando è un bando che prevede in realtà due canali di finanziamento. Quest'anno nel 2024 finanzieremo 14 progetti di didattica innovativa per un massimo di 200 mila euro a progetto ma soprattutto c'è un progetto regionale sull'intelligenza artificiale con la quale abbiamo messo a disposizione proprio un milione di euro e sarà un progetto pilota soprattutto per avvicinare i nostri ragazzi a quelle che sono le nuove sfide del futuro. Cambio di ruoli e nuovi ingressi oggi nella seduta del Consiglio regionale delle Marche. Dopo le dimissioni da consigliere del neosindaco di Pesaro Andrea Biancani Maurizio Mangiolardi è stato eletto oggi nuovo vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche. Come consiglieri regionali al posto dei neosindaci Biancani di Pesaro e Sir Filippi di Fano sono stati ufficializzati gli ingressi del pesarese Giovanni Dall'Asta che entra nel gruppo misto e delle fanese Renato Claudio Minardi del Partito Democratico già consigliere e vicepresidente nella passata legislatura. E mentre questo pomeriggio a Pesaro si è tenuto il Consiglio comunale ieri sera si è insediato anche il Consiglio del Municipio di Montecicardo incorporato nelle comune di Pesaro. C'è stato il giuramento della prosindaca Marica Pierucci e dei dieci consiglieri alla presenza del sindaco Biancani e di parte della Giunta e del Consiglio comunale di Pesaro. In questo mese di luglio è tempo di dichiarazioni dei redditi e sempre più pesaresi si rivolgono ai CAF per questo servizio come ci spiega il segretario della CGL Pesaro Urbino Roberto Rossini. Il nostro CAF ogni anno produce più di 46 mila tra le 46 mila e le 50 mila dichiarazioni dei redditi per tutta la provincia. Quindi diciamo che siamo abbastanza esperti. La cosa è molto concreta perché il periodo è proprio quello centrale delle dichiarazioni dei redditi. Un periodo che voglio ricordare scade il 30 di settembre. Quindi entro il 30 di settembre dobbiamo presentare tutti la dichiarazione dei redditi. Noi siamo molto strutturati per questa cosa. Già ora abbiamo raggiunto le 30 mila dichiarazioni dei redditi fatte. Malgrado o anche l'opportunità che in teoria il nostro paese dà ai cittadini cioè quello dell'autocompilato, del precompilato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate ma al grado appunto ci sia questo tipo di possibilità le persone in qualche modo si rivolgono ancora ai soggetti appunto ai nostri CAF, ai soggetti di rappresentanza collettiva per avere un ausilio, un aiuto appunto nella dichiarazione dei redditi. Tanto più quando questa dichiarazione è particolarmente complessa diciamo così che siamo il primo anno, comunque i primi anni in cui dopo i bonus edilizi e quant'altro le persone appunto devono costruire la loro dichiarazione dei redditi tenendo conto anche delle spese e anche il recupero appunto di queste spese in dichiarazione. Quindi dicevo malgrado o ci sia appunto la possibilità per le persone di avere il precompilato, comunque l'autocompilato nel sito dell'Agenzia delle Entrate questa dinamica ancora nel nostro CAF non ha prodotto grandi impatti in termini di riduzione delle persone che appunto si rivolgono a noi per farlo anzi viviamo in questo momento una fase incrementale di mille persone in più rispetto all'anno scorso che si sono rivolte a noi per avere appunto un aiuto nella dichiarazione dei redditi. Oltretutto anche le garanzie che possiamo dare in più come sostituto di imposta per quanto riguarda tutto il tema del sistema assicurativo che noi comunque diamo alle persone nel caso di un punto di errori o di produzione di documentazioni non console rispetto appunto alla dichiarazione che loro vanno a prestare. Ieri sera ha tagliato il traguardo di sei mesi di attività nel Parco Miralfiore il progetto del Bar Trattoria Sociale Utopia un progetto che come vedremo in questo servizio è destinato ad espandersi ancora. Dall'8 gennaio all'8 luglio compie sei mesi di attività la Trattoria Sociale Utopia al Parco Miralfiore. Dopo l'esperimento estivo del 2023 all'alberghiero Santa Marta si tratta della seconda scommessa vinta dal progetto Utopia che consolida ulteriormente la realtà di lavoro inclusivo pesarese. Mezzo anno di attività celebrato con una festa con sguardo rivolto a quanto realizzato finora e i progetti da poter ancora mettere in cantiere. Sei mesi bellissimi e l'attività funziona a Trattoria Sociale Bar al Parco Miralfiore funziona perché dà lavoro a 29 ragazzi. Da parte delle famiglie c'è tanta contentezza perché vedono i loro figli proprio contenti e soddisfatti del loro lavoro anche perché ad oggi 29 ragazzi hanno già ricevuto un contratto a tempo determinato e quindi è una soddisfazione sia per il ragazzo che per la famiglia e quindi i genitori ci appoggiano nel progetto aiutandoci come volontari anche nel ristorante. C'è la soddisfazione di essere riusciti a ridare vita al Parco Miralfiore è un contributo decisivo, devo dire, l'ha dato il progetto Utopia nella gestione del bar che ha garantito un'apertura quotidiana dalle 7 della mattina fino alle 11 mezzanotte c'è sempre tanta gente, ha creato grande curiosità sia per i cittadini pesaresi che per quelli che vengono da fuori e in più ha dato grandi opportunità alle famiglie con ragazzi disabili in casa di uscire, di sentirsi importante, di lavorare e di interagire quotidianamente con le persone di dare un servizio, un servizio importante e avere la gente al Parco Miralfiore nei mesi di luglio, agosto alla sera è una scommessa vincente per una città di mare. La Regione Marche guarda con grande interesse questo progetto che è un progetto che nasce a Pesaro, che può essere esportato ma che può crescere grazie alla collaborazione della filiera istituzionale anche e soprattutto in questo territorio laddove è nato quindi noi ci siamo, lo stiamo dimostrando siamo al fianco di chi gestisce questa vera e propria impresa sociale siamo al fianco delle famiglie, siamo al fianco dei ragazzi ho ascoltato molte idee da parte di chi gestisce questa realtà di inclusione e se avremo la possibilità daremo una mano a questa struttura Il progetto di lavoro inclusivo ha aperto la strada a nuove richieste di partecipazione alle quali Utopia risponde apparecchiando nuove opportunità la più ambiziosa in dialogo con la Regione Marche punta al bando per il recupero e la trasformazione dell'ex ostello di Fosso Seiore Quello che sarà, penso, tra un anno l'apertura del più grande ristorante e pizzeria della Regione Marche di sito da ragazzi con disabilità E poi c'è un altro progetto già in rampa di lancio per settembre Mancano due mesi l'apertura del vivaio Pantanelli Nel primo settembre Utopia con un nuovo progetto che si chiamerà Pantarei con il Cecchi e andremo a gestire questo vivaio che è il più grande della nostra provincia lo renderemo a dargli vita ulteriore e un nuovo passo dove pensiamo di inserire circa 40 ragazzi con disabilità che vengono tutto quanto alla provincia Un successo, un grazie a chi ci ha creduto e tutti quanti che sostengono ancora Utopia e il progetto dei ragazzi E vi ricordiamo che le celebrazioni di questi primi sei mesi di Utopia saranno anche oggetto di un più ampio speciale di approfondimento che Rossini TV trasmetterà giovedì 11 luglio alle ore 21.40 Altro speciale che invece trasmetteremo sabato 13 luglio alle 21.20 è quello che riguarda un altro anniversario ovvero il decennale della fondazione Vanda di Ferdinando Dieci anni a sostegno di attività filantropiche e di solidarietà sociale con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori Un decennale che ieri è stato celebrato all'auditorio di Palazzo Montagna Antaldi anche con il concerto di Raffaele Damen e le letture di Giorgio Donini E domani, mercoledì 10 luglio, inizia la ventesima edizione del festival organistico Vespri d'Organo a Cristo Re che in questo anniversario a Cifratonda si allarga da Pesaro ai vicini comuni di Monbaroccio, Urbino e Montelabate per 12 concerti in 8 chiese dotate di importanti organi sia antichi che moderni Si comincia domani a Cristo Re di Pesaro con inizio alle 21.15 a ingresso libero una serata inaugurale con la partecipazione di Francesca Di Modugno che darà voce a letture scelte da Lucia Ferrati e tratti che dà il portico del mistero della seconda virtù di Charles Peggy scritto nel 1911 la parte musicale affidata a Giuliana Maccaroni, direttrice artistica del festival insieme a Martino Porcele impegnati in un programma per organo a quattro mani l'organo utilizzato è lo splendido Mascioni costruito nel 1906 Ed ora andiamo a scoprire le proposte di intrattenimento di questa settimana nella cartellone di eventi dell'Arena BCC di Fano Con il film rigorosamente Made in Fano, due teste di, firmato da Henry Secchiaroli è partita ieri sera l'estate del cinema all'aperto dell'Arena BCC di Fano un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti coordinato con una formula consolidata da Masetti Cinema Si può dire ormai che è tradizione la rassegna cinematografica all'interno del cartellone dell'Arena BCC questo è il quinto anno come ogni anno, come il palinsesto e come tutte le altre attività si cerca di migliorare quest'anno possiamo dire di avere i maggiori successi cinematografici della passata stagione più cinque serate di film fanesi, dialettali ovvero due serate con il film Due teste di, di Henry Secchiaroli e tre serate con il film del San Costanzo Show non aprite quella sporta di tutta la banda del San Costanzo Allora, il prezzo per i film italiani ed europei l'ingresso è da 3,50 euro grazie all'iniziativa ministeriale del Cinema Revolution gli altri hanno un prezzo di 6 euro 5 euro ridotti insomma, le riduzioni per i soci BCC per i tesserati della Proloco e per i possessori di carta Conad Cinema all'aperto che si mescola alle tante proposte di teatro dialettale nel cartellone dell'Arena Fanese prossimo appuntamento con Ulisseide proposta dal Teatro Accademia Dunque, Ulisseide il nome già lo dice logicamente la storia di Ulisse e tutte le sue peripezie viste con un'ottica molto comica, umoristica con personaggi stravolti con delle situazioni fatte molte in dialetto pesarese quindi per chi conosce la storia, credo quasi tutti è un divertimento garantito e assoluto costumi, scenografia, musiche divertimento assicurato Ed ora lo sport cominciamo parlando di ciclismo perché ben due delle complessive otto tappe del Giro d'Italia femminile vedranno protagoniste le marche in particolare la provincia di Pesaro Urbino sarà infatti Urbino l'arrivo della quarta tappa di domani mercoledì 10 luglio una tappa di 134 chilometri che partirà da Imola dal castello di Frontone è invece prevista la partenza della quinta tappa giovedì 11 luglio con 108 chilometri che arriveranno a Foligno in regione è stata presentata oggi questa grande opportunità di visibilità all'insegna dello sport alla presenza dei sindaci di Urbino e Frontone Maurizio Gambini e Daniele Tagnani del consigliere e assessore regionale Giacomo Rossi e Chiara Biondi e dal ciclismo passiamo alla pallavolo soddisfazione e grande orgoglio per la Megabox Vallefoglia che vede due sue atlete convocate per le Olimpiadi di Parigi si tratta delle schiacciatrici Alice De Gradie e Gaia Giovannini che faranno parte delle 12 atlete selezionate dal commissario tecnico della Nazionale Italiana Julio Velasco due ragazze sulla quali la Megabox ha costruito il cammino della scorsa ma anche della prossima stagione di Serie A1 e passiamo al calcio a 5 parliamo anche di Little Service che dopo gli ingaggi di Manservigio e Gastaldo annunciati ieri ufficializza un altro importante colpo di mercato si tratta del 38enne brasiliano Oito Meia reduce da tanti anni e tanti gol in Italia con l'ultima stagione trascorsa a Viterbo mercato caldo anche nel calcio alla Vispesero ufficializzato dal Torino l'arrivo del centrocampista classe 2004 Jacopo Antolini e dal Cagliari l'arrivo del difensore classe 2003 Luigi Palomba che lo scorso anno ha militato in prestito all'Olbia ingaggi che seguono quello del difensore Davide Bove del Crotone che ha firmato pochi giorni fa se ne va invece Davide Zagnoni che passa al Carpi ed è l'insegna dell'attività sportiva anche la nostra prima serata su Rossini TV questa sera alle 21.20 vi proporremo infatti l'affascinante documentario realizzato in occasione del settantesimo anniversario del Circolo Canottieri di Pesaro e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini rassegna stampa dei quotidiani locali che in questa edizione di mercoledì 10 luglio sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi e si chiude invece qui la telegiornale Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti